Io sono Enrico Rivella di ARPA Piemonte, settore valutazioni ambientali che si occupa del supporto agli enti gestori della rete Natura 2000 in Piemonte. Il nostro supporto è un supporto tecnico nella valutazione di incidenza che è un obbligo per i soggetti che intendono fare interventi nelle aree Natura 2000 o anche limitrofe che possono avere incidenza anche sulla conservazione di specie d'abita. Abbiamo anche poi un ruolo nella successiva verifica dell'ottemperanza di quelle che sono le prescrizioni o le condizioni che sono dettate dall'ente, l'autorità che rilascia la valutazione di incidenza nel caso sia positiva. Sul tema della giornata abbiamo un ruolo ulteriore, un tecnico di supporto, di partecipazione in regione al gruppo regionale sulle reti ecologiche che è un po' un tema che interessa il territorio anche all'esterno delle aree Natura 2000 ma è nello stesso concetto del legislatore europeo quello di creare un sistema che sia connesso dove le specie possano interagire, trasferirsi, cercare risorse. Dal punto di vista tecnico cosa vuol dire? Vuol dire che elaboriamo modelli, lavoriamo a livello cartografico, a livello di valutazione, di interazione con gli enti locali proprio per creare un sistema di infrastrutture verdi che sia connesso e che abbia le caratteristiche di habitat funzionali a quelle che sono le specie o di interesse per la connettività ecologica.